Allora, questo è il mio primo video, ve lo faccio un po' girando per camera perché comunque non riesco a stare ferma e in più spero di non farvi venire però il mal di mare Allora, appunto, questo è il mio primo video e innanzitutto mi vorrei presentare, per non essere scortese Allora, io mi chiamo Simona e vengo dalla Sicilia e vorrei appunto cominciare a farvi dei video perché sto intraprendendo dopo il diploma alla strada dell'estetista quindi mi ritengo un po' brava perché non voglio dire che sono bravissima ma mi ritengo un po' brava sia nel trucco che nelle unghie, nella ricostruzione unghia io adoro sin da quando ero più piccola la ricostruzione unghia, infatti ho anche lavoricchiato così però, appunto, vorrei farvi vedere di cosa sarei capace quindi la mia passione fondamentalmente anche perché ho deciso proprio di continuare questo tipo di studi per portare avanti questa mia passione e niente ragazzi spero... ah, se vi interessa appunto vedere qualche tutorial di qualche nail art o anche comunque qualche tutorial per quanto riguarda la ricostruzione io sono qui basta chiedervelo sotto nei commenti oppure un messaggio privato e io ve lo faccio senza alcun tipo di problema anche se volete un videotag eccetera basta chiedere che io ve lo faccio quindi spero che io vi possa piacere e intrattenere in qualche modo e niente, che vi devo dire? al prossimo video ciao ragazze! ciao 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 ciao